Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Michele D'Oro, ha presentato un'interrogazione per accendere i riflettori sulla stradella realizzata come prolungamento di via Antenna anni fa, per permettere ad alcuni residenti di raggiungere le proprie abitazioni dopo il cedimento della scarpata soprastante la via Colonnello Eber e i danni anche alla sede stradale che consentiva l'accesso ad alcuni edifici avvenuto nel 2015. Il consigliere infatti chiede notizie sulle tempistiche e modalità di intervento, che risulterebbe, così come spiega nel documento, inserito nella programmazione dell'ufficio tecnico. Lo stesso avrebbe infatti, su segnalazione dei residenti, eseguito diversi sopralluoghi per constatare le condizioni della strada, che sarebbero peggiorate anche a causa delle recenti precipitazioni. I cittadini residenti, si legge, incontrano ormai notevolissime difficoltà a recarsi nelle proprie abitazioni, rischiando di danneggiare le proprie automobili con conseguenti elevati costi di riparazione. Alcune famiglie che risiedevano in quella zona furono molto danneggiate, ricevendo anche un'ordinanza di sgombero. L'amministrazione del tempo pensò di ovviare all'inconveniente, realizzando una pista provvisoria nella parte terminale della via Antenna. Questa pista provvisoria, però, negli anni è diventata quasi definitiva e si è via via degradata sempre più, risultando oggi costellata di buche profonde che mettono a dura prova le automobili dei residenti, che quasi non riescono più ad accedere alle proprie abitazioni. Questi cittadini hanno presentato nel tempo diverse istanze per richiedere un intervento di manutenzione. Nel 2016, nel 2018 è una anche molto recente. Io ho potuto appurare che l'intervento risulta inserito nella programmazione dell'ufficio tecnico, ma siccome non ne sono certi i tempi, ho preferito sperire un ulteriore tentativo presentando una interrogazione consigliare per chiedere al sindaco se l'intervento è programmato, quando avverrà, i tempi di realizzazione e anche tecnicamente come si intende intervenire per riparare questa pista provvisoria. Io confido nella sensibilità dell'amministrazione che sta lavorando molto bene e così come è stato fatto per altre zone della città, sono sicuro che anche per questi cittadini sarà trovato un rimedio.